Lo Smart Program è la nuova proposta SAS pensata per manager e imprenditori di aziende del pubblico e del privato sia di medie dimensioni ma soprattutto di piccole e piccolissime che vogliono fare che cosa? Vogliono sfruttare al meglio i propri dati come in tempi più veloci, a costi maggiormente competitivi e sfruttando quella che è la capacità indistinta di SAS, quindi l'analisi del dato Ecco, se questo fino a poco tempo fa era appannaggio solo di aziende di un certo tipo di un certo settore come banche e telecomunicazioni adesso notiamo che questa necessità quindi di analizzare i dati c'è anche in settori meno articolati, più piccoli quindi come è possibile aiutare aziende medie e piccole a passare dal dato alle decisioni in tempi veloci? Lo Smart Program vi può aiutare come con quattro pilastri fondamentali primo dei pacchetti software, degli starter kit, un ecosistema di partner e un palinsesto di eventi programmati e ricorrenti quindi pacchetti software, che cosa vuol dire? sono un insieme di soluzioni core del framework tecnologico di SAS pensate per indirizzare ogni fase del processo di gestione del dato dal data management all'exploration all'analytics starter kit, quindi queste soluzioni sono accompagnate da un supporto per rendere le soluzioni attive in tempi brevi avvalendosi anche di una rete di partner certificati con competenze mirate o in certi ambiti di business o in certe soluzioni aree tecnologiche o anche in certe aree di industrie quindi se volete scoprire di più e avere maggiori informazioni sullo Smart Program, sulle soluzioni, sugli starter kit sui partner che vi partecipano potete seguirci nelle prossime iniziative del palinsesto che troverete sul nostro sito di SAS grazie grazie